per Gaudino tenta la conclusione e gol Stoccarda in vantaggio proprio con Gaudino diciassettesimo minuto del primo tempo una palla che sembrava controllabile dal portiere Vito infatti il brasiliano supera Buchwald e va a tirare fuori la conclusione bel raso terra da parte di Maradona dopo un'iniziativa di Pusi per Maradona e c'è calcio di punizione calcio di punizione dal limite calcio di punizione dal limite e il tira proprio Alemau altissimo stranamente Maradona ha rinunciato al su Maradona non c'è fuorigioco Maradona mette al centro per Ferrara e la palla viene cacciata via dalla linea di porta letteralmente la versione verso Renica Maradona al tiro non gli viene impedito rigore palla tiro gol Napoli ha pareggiato con Maradona ventitresimo minuto del secondo tempo carico calcio di rigore di Maradona uno a uno battuto Elke Immel il Napoli raggiunge in questo secondo tempo un gol carnevale carnevale per Maradona il cross al centro Careca tiro gol gol del Napoli quarantaduesimo minuto del secondo tempo Careca ha portato in vantaggio il Napoli un gol cercato a lungo e arrivato in maniera quasi lo cambolesca su un lunghissimo rilancio di e finisce la partita e il Napoli ottiene così la vittoria così Maradona una vittoria voluta più che altro con il cuore giocata con il cuore e per il ritorno sarà difficile è sempre difficile oggi pensavamo pensavamo addirittura di perdere la partita Algover e Maradona per le operazioni preliminari e ca dentro ancora per Alemao Alemao tiro e il pallone in gol gol di Alemao grande azione del Napoli e Alemao porta in vantaggio il Napoli diciannovecimo del primo tempo Alemao in combinazione con Maradona imperturbabile la maschera di Ottavio Bianchi e il pallone va in gol gol proprio di Klinsmann Klinsmann forza in parità vedete Klinsmann che esulta gran colpo di testa di Klinsmann rivediamo Sigurdinsson attenti alla barriera del stopcard per coprire la visibilità il portiere il giro di Maradona è alto Algover il colpo di testa di Scheper ancora Maradona dentro gol 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 di Ciro Ferrara Ferrara con gran botta mette dentro al 39esimo il gol del 2 a 1 grande Napoli vedete Ferrara che non crede Maradona Maradona viene raggiunta da Hartmann Maradona poi serve Careca Careca gol gol del Napoli grandissimo il Napoli in contropiede Careca servito da Maradona è un trionco 17 minuti della ripresa gol del Napoli con Careca 3 a 1 non c'è Prisvalder ancora Gaudino il suo destro la deviazione di De Napoli e il gol autogol di De Napoli 23esimo autorete vedete Gaudino fa tutto lui poi il pallone che era assolutamente innocuo è destinato a fondo campo Beffa Giulio primo tempo Catanez al primo accenno paloso attenzione e c'è il gol il gol di Olaf Schmeller un gol a tempo che porta la situazione sul 3 a 3 anche questa però è una segnatura a parte il valore platonico che con un fissico di maggiore attenzione in Napoli avrebbe potuto evitare vedete che è una vittoria che viene ora sanzionata dal fischio finale dell'arbitro Octavio Bianchi vedete complimentato da tutti mentre i giocatori del Napoli si abbracciano e sugli spalzi c'è un tribunio di vestigli azzurri il Napoli conquista la Coppa UEFA scrive il suo nome in Europa praticamente significano anche la permanenza di Diego Armando Maradona a Napoli ed ecco la Coppa UEFA il gioco al cielo da Maradona e dai suoi compagni mentre con un típico di invidia i giocatori dell'Oscarza guardano questo momento di straordinaria festa la parte dei Napoletani il Napoli la primera jugada de ataque del FC Barcelona el recorte de Nimar la pone por dentro Andrés Andrés la juega ¡qué golazo! ¡qué poesía! ¡esto es el Barça! ¡tres minutos de partido! ¡Raaaaaaan! y se acaba de adelantar al FC Barcelona la pelota para Nimar viene en corto se asocian de otra manera a Nimar le va a pegar arriba eléctrico el arranque en ataque para Luis Suárez balón atrás Daniel Alves para donde Buffon sigue el Barça no llega esa pelota por encima del larguero de Leo Messi Buffon acaba de salvar el segundo ahí arranca se la juega Luis Suárez va a poder buscar el disparo ¡fuera! rondando el Leo ahí va el balón Malone pega la defensa queda para Luis Suárez Torne Rakiti la juega el disparo otra de Buffon tremenda mano derecha evita el tango de Luis Suárez eso sí es una buena parada es una magnífica viene la jugada ahí va León Messi dentro del área golpea arriba ese es el Barça ese es el Barça Michael pero me empieza a preocupar el bajo índice de convertibilidad de las acciones de ataque del Barça atención a Leinstein en peligro la juega por dentro a la media vuelta Tebe para donde Esteben Álvaro Morata empata el partido para la Juventus Álvaro Morata que vuelve a marcar empata el partido la Juventus de Turín minutos nueve en la segunda bitaja Arno Viagra de agua fría sobre el Barcelona la jugada que convierte Álvaro Morata regate y el segundo el disparo el rechace tiene que llegar gol 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 de Luis Suárez arrancó Leo Messi talando árboles por el camino la sacó como pudo encostado Gianluigi Bufoni busca el pase aparece de mar gol en semigraño o no vamos a ver si no lo ha metido con la mano parece que dice el asistente le está llamando reglando la presencia del colegiado vamos a ver la prepara la juega para Piqué vamos Piqué se llena de balón Piqué y otra que se le va limbo al Barça para Leissteiner con nadie disparo le va a intentar desde ahí Ter Stegen córner córner para la Juventus de Turín vamos a entrar en el último hay Pedro Pedro Neymar 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 gol gol de Barcelona se acabó el partido el Barça es campeón de Europa por quinta vez en su historia el fútbol club Barcelona es nueva Mendopa pide un poquito de espacio Fichel Platini ya sabe cómo se las gastan los equipos españoles Xavi el Barça es campeón de Europa elevando la copa la orejona al cielo de Berlín en un estadio que rezuma historia de Berlín 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 de Berlín